Comunque Vada sarà un successo, è già una grande soddisfazione far parte dei 25 concorrenti selezionati in tutta Italia. La nostra coppia è vincente perché è la combinazione di due elementi complementari, Antonella che è la parte creativa e Dio la parte amministrativa. Insieme facciamo crescere giorno per giorno la nostra arte. Così Daniele Veltri commenta la partecipazione di Antonella Cestari al prestigioso concorso nazionale Buche Festival di Sanremo, che si svolgerà il prossimo 7 gennaio a Sanremo appunto. Antonella e Daniele da 8 anni gestiscono insieme il negozio piante e fiori Veltri a Rocca Gloriosa, di cui Antonella è titolare. Ma la passione di Antonella per i fiori è nata qualche anno prima, da 10 anni infatti, e specializzata in questo mestiere. A spingerla a partecipare al concorso è stato proprio Daniele, la parte pratica del lavoro, che ha notato il bando pubblicato dal comune di Sanremo e dopo aver mandato curriculum e documentazione è arrivata la convocazione insieme ad altri 24 partecipanti scelti in tutta Italia. Domenica 7 gennaio a Sanremo avverrà la selezione finale. Una giuria qualificata sceglierà solo due concorrenti tra i 25 partecipanti. Il premio in palio è far parte della squadra che dovrà realizzare i bouquet floreali per il 68esimo Festival di Sanremo, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018. Dalle redazioni di Trekking TV, un in bocca al lupo ai due giovani cilentani.